Autore di una straordinaria tripletta segnata ai greci del PAOC Salonico nella partita vinta per 5-2 dal suo atletico Madrid al Vicente Calderon. Dopo i due gol del primo tempo l'ex attaccante della Juventus ha firmato il suo capolavoro al decimo della ripresa quando praticamente dalla linea di fondo, stiamo rivedendo, ha fatto partire un'incredibile parabola che ha superato il portiere Micoclos. Complimenti a Cristian Vieri.